Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Alto Pascio e Lucca Est nella carreggiata in direzione mare. In FIPD per lavori all'altezza del turbone resta un chilometro di coda tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze e rallentamenti in carreggiata opposta tra Ginestra e Monteluppo. Per lavori notturni inoltre sempre in FIPD lì segnaliamo la chiusura della carreggiata tra Monteluppo ed Empoli Est in direzione mare stanotte e domani notte in orario 22.6. Ci spostiamo sul raccordo Siena-Firenze al Via da quest'oggi 22 giugno e in corso fino a fine luglio lavori all'altezza dello svincolo di Tavarnelle e Val di Pesa. Previsto scambio di carreggiata e la chiusura dello svincolo di Tavarnelle in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Firenze. Muoversi in Toscana-Infio è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!